Valorizzazione, promozione e commercializzazione del patrimonio ambientale, culturale, artistico, agroalimentare e turistico regionale. La Regione Basilicata è da sempre impegnata nel promuovere le bellezze materiali ed i materiali del territorio lucano con l'obiettivo di incentivarne il turismo. Per questo sostiene la rassegna itinerari e agroalimentare di Basilicata, realizzata in collaborazione con l'Associazione Lucani a Milano e organizzata da Gaetano Vitelli. La rassegna itinerante sarà a Milano nel prossimo mese di novembre con diversi spazi espositivi che rappresenteranno la Basilicata. In programma degustazioni dei peperoni cruschi di Zenise, dell'olio extravergine di oliva della Valsarmento, di vini del Pollino Lucano. Il tour italiano, ha detto l'assessore Mastro Simone, rappresenta il miglior biglietto da visita per far apprezzare la Basilicata altrove, dal momento che la cultura di un territorio merita una promozione continua e puntuale fuori dai confini regionali.